Nel nostro rapporto con i cani, spesso pensiamo di conoscerli molto bene, ma siamo sicuri che sappiamo tutto ciò che loro sanno su di noi? I cani hanno un modo unico di percepire il mondo che li circonda, grazie al loro sviluppato senso dell'olfatto, all'empatia innata e alla loro capacità di leggere le nostre espressioni e il nostro linguaggio del corpo. Ecco sette cose sorprendenti che il tuo cane sa su di te. Quando hai paura, i cani sono molto sensibili all'energia e alle emozioni umane. Sono in grado di rilevare i cambiamenti nel tuo corpo e nel tuo odore quando sei spaventato o ansioso. Inoltre, possono notare la tua postura e il tuo comportamento, come tremare o sudare, che indicano la tua paura. Di conseguenza, cercheranno di starti vicino per offrirti conforto e sicurezza, dimostrando la loro empatia e comprensione nei tuoi confronti. Quando stai male, i cani hanno un olfatto incredibilmente sviluppato, molto superiore al nostro. Possono rilevare i cambiamenti chimici e ormonali nel tuo corpo, come l'odore dei composti chimici che il tuo corpo emette quando sei malato. Questo può includere cambiamenti nell'odore del tuo sudore, del tuo respiro o della tua pelle, che possono indicare una malattia o uno squilibrio nel tuo sistema immunitario. I cani possono reagire in modo protettivo o premuroso quando percepiscono che non ti senti bene, dimostrando la loro capacità di prendersi cura di te. Quando sei arrabbiato con lui, i cani sono molto attenti al tuo linguaggio del corpo e all'espressione del tuo viso. Riescono a capire se sei arrabbiato o frustrato con loro attraverso il tono della tua voce, il tuo sguardo e la tua postura. Possono leggere le tue emozioni e reagire di conseguenza, cercando di calmarti o di evitare comportamenti che potrebbero aggravare la situazione. Questa capacità dei cani di comprendere e rispondere alle tue emozioni è un segno del loro attaccamento e della loro connessione con te. Se sei incinta, i cani sono in grado di percepire i cambiamenti ormonali nel tuo corpo quando sei incinta. Possono rilevare gli odori e le sostanze chimiche che il tuo corpo emette durante la gravidanza e reagire di conseguenza. Possono diventare più protettivi o premurosi nei tuoi confronti, cercando di stare vicino a te e di prendersi cura di te in modo speciale. Questa capacità dei cani di riconoscere la gravidanza è stata dimostrata in numerosi studi scientifici, evidenziando il loro straordinario olfatto e la loro sensibilità alle sostanze chimiche emesse dal tuo corpo durante la gravidanza. Se le persone ti stanno simpatiche o antipatiche, i cani sono molto abili nell'interpretare le dinamiche sociali e le interazioni umane. Possono osservare il tuo comportamento e le tue reazioni emotive quando sei con altre persone e capire se ti piacciono o meno. Questo può includere i cambiamenti nel tuo linguaggio del corpo, nel tono della tua voce, nel tuo battito cardiaco e nelle sostanze chimiche emesse dal tuo corpo quando sei con persone che ti suscitano emozioni positive o negative. I cani possono reagire di conseguenza a queste percezioni, mostrando affetto o avversione nei confronti delle persone che incontrano, dimostrando così la loro capacità di leggere e comprendere le dinamiche sociali e umane. Riescono a prevedere alcune tue intenzioni. I cani sono molto attenti alle tue abitudini e routine quotidiane. Possono imparare a riconoscere i segnali che indicano che stai per fare qualcosa, come prendere la leash per portarli a passeggio o preparare il cibo per loro. Possono anticipare le tue intenzioni in base alle tue azioni precedenti e alle routine che hai stabilito con loro nel tempo. Questa capacità di prevedere alcune delle tue intenzioni è una dimostrazione della loro intelligenza e dell'attenzione che prestano a te e alle tue abitudini. Sanno da dove stai tornando. I cani hanno un olfatto straordinario che può rilevare gli odori e le sostanze chimiche che si legano al tuo corpo in base al luogo in cui sei stato. Possono riconoscere gli odori specifici dei luoghi che hai visitato, come il parco, l'ufficio o la casa di un amico, e associarli a te quando torni a casa. Possono identificare gli odori che si sono attaccati ai tuoi vestiti, alle tue scarpe o al tuo corpo e trarre informazioni sulla tua posizione precedente. Questa capacità dei cani di riconoscere gli odori e di associarli ai luoghi che hai visitato è una testimonianza della loro straordinaria abilità olfattiva e della loro capacità di percezione. In conclusione, i cani sono straordinari osservatori del comportamento umano e hanno una notevole capacità di comprendere e percepire le emozioni e le intenzioni dei loro proprietari. Questa connessione unica tra uomo e cane è uno dei tanti motivi per cui i cani sono considerati i migliori amici dell'uomo.